Si comincia dunque, falla in mano alla Ryan Sassari che attaccherà in divisa bianca da sinistra a destra dei vostri schermi. Marrochi le sue finte, gioca molto bene sul filo dei passi, Pavolo Marrochi questo è un gran gol. Volante intanto Eila Conversano confeziona un gol bellissimo con l'asse Marrochi Nelson. A tu per tu con Diggio Domenico che para però dalla linea. C'è Conversano in semifinale di Coppa Italia battuta a Ryan Sassari 32 a 28. Top!